Salve e benvenuti a tutti. Sono Akos Menhei, Managing Partner di Primus Vers, società internazionale di gestione patrimoniale con sede in Luxemburgo. È un piacere presentare il mio collega Gianluca Meschini, avvocato italiano e nostro consulente per i Family Office. Da ora la parola a Gianluca che terrà per voi la presentazione di oggi in italiano. Grazie Akos. In questo seminario ci occuperemo del tema della protezione della privacy. Discuteremo di alcune delle soluzioni legali più prudenti che possono aiutare gli individui ad alto patrimonio netto a controllare efficientemente i dati sensibili relativi alle loro informazioni finanziarie, commerciali e personali, in questo periodo storico che è caratterizzato sotto questo punto di vista dal registro dei titolari effettivi di stampo europeo, dal CRS e dal FATCA. Illustreremo quindi in dettaglio le soluzioni legali basate sulla giurisdizione dell'Unione, tese a creare strutture di protezione della privacy tra le più avanzate al mondo. Alcune di queste informazioni saranno piuttosto tecniche, per cui se durante il seminario vi venissero in mente le domande, non esitate ad inviarcele e faremo nel nostro meglio per rispondere a ciascuna di esse nel più breve tempo possibile. Gianluca, a questo punto potrebbe essere utile spiegare esattamente cosa è la privacy e perché va tutelata? Certo, partiamo con la prima slide. Allora, molto semplicemente la privacy è un diritto fondamentale e uno dei pilastri più importanti della dignità umana, tutelata tra l'altro dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Tutti i dati che ci riguardano devono godere di una qualche forma di protezione, per questo annoveriamo ad esempio i dati di natura finanziaria. La privacy personale e finanziaria è essenziale per consentire agli individui di operare e prosperare senza timori di controlli o ritorsioni. I nostri dati finanziari sono estremamente importanti e nelle mani sbagliate possono essere utilizzati contro di noi. A seconda della stabilità economica o politica del Paese in cui viviamo, l'accesso da parte di autorità governative ai nostri dati può risultare diciamo più o meno problematico, ma a livello generale parliamo del grave rischio creditori, criminali o persino i coniugi, possono rappresentare in caso di accesso alle nostre informazioni private. Inoltre, in questa era del FATCA, del CRS o del registro di titolari effettivi e delle norme antiriciclaggio, viviamo in un ambiente in cui non siamo in grado di controllare pienamente i nostri dati sensibili. Chiarissimo, a questo punto credo che la domanda importante sia, possiamo riottenere la nostra privacy? Potresti darci un parere in merito? Nell'ambiente commerciale e legale di oggi lo standard globale è senz'altro quello della trasparenza. I governi oggi vogliono monitorare tutto e tutti, tutte le transazioni personali e tutti i rapporti commerciali perché ovviamente intendono riscuotere le tasse nel modo più efficiente possibile. Gli standard internazionali che abbiamo poc'anzi citato, il FATCA, il CRS, i registri di titolari effettivi, hanno portato ad un ambiente che risulta essere molto impegnativo per le imprese e per gli individui che dispongono di patrimoni elevati. È diventato sempre più difficile proteggere la privacy dei clienti e mantenere il controllo delle proprie informazioni. Ma esistono soluzioni legali per raggiungere questo obiettivo, cioè quello di proteggere la privacy? E come funzionano? Questo è quello di cui parleremo nelle prossime diapositive. I due principali obiettivi del FATCA, del CRS e del registro dei titolari effettivi sono l'aumento dell'efficienza nella riscossione delle imposte e la lotta al riciclaggio di denaro. Ritieni che gli strumenti di protezione della privacy possano creare una piattaforma per l'evasione fiscale. Questo è un punto interessante, Akos. È molto importante capire che la tutela della privacy non equivale ad evasione fiscale e anzi non è nemmeno pianificazione fiscale. Certo c'è una connessione tra pianificazione fiscale e protezione della privacy, ma da sola l'idea che siamo in grado di fornire soluzioni per proteggere la privacy finanziaria dei nostri clienti non equivale a pianificazione fiscale e senz'altro non equivale ad evasione fiscale. All'interno delle strutture di protezione della privacy che noi creiamo utilizziamo diverse soluzioni per rendere difficile a terzi ottenere informazioni sui dati aziendali riservati ai nostri clienti, come per esempio i bilanci o le informazioni relative alla struttura dell'azienda, l'identità dei proprietari e altri dati aziendali sensibili. E questo è molto importante perché se ad esempio un concorrente riuscisse ad ottenere informazioni su un'azienda e a capirne dai dati finanziari o dai bilanci annuali quali sono i punti deboli di questa azienda, potrebbe ottenere vantaggi non indifferenti. Qualcuno per esempio potrebbe avviare azioni contro l'azienda in parola o contro i proprietari nel tentativo di forzare ad esempio un'acquisizione, cosa che ovviamente non vogliamo avvenga senza il nostro controllo. Quindi a questo punto dovremmo iniziare a esaminare in dettaglio quali sono gli strumenti più efficaci a nostra disposizione per proteggere la privacy e come dovrebbero essere utilizzati. Allora gli strumenti più potenti che possiamo utilizzare per proteggere la privacy dei nostri clienti sono i trust registrati nell'Unione Europea o negli Stati Uniti, ovvero le fondazioni private europee, il cosiddetto trust ibrido, ovvero diversi fondi UE tra i quali quello che è più comunemente utilizzato è il Private Equity Fund. Nel complesso l'Unione Europea offre un ambiente giuridico, sociale ed economico molto stabile per la protezione dei beni e della privacy. Il diritto dell'Unione Europea è fondato sullo Stato di diritto e è stato concepito per proteggere i contribuenti dai loro governi. In ogni Stato membro vige la supremazia del diritto dell'Unione e l'unico foro autorizzato ad interpretare il diritto dell'Unione è la Corte di Giustizia Europea a Lussemburgo, che è il livello giudiziario più alto all'interno del sistema giudiziario dell'Unione. In caso di conflitto tra il diritto degli Stati membri e il diritto dell'Unione o qualora si renda necessaria l'interpretazione di una norma comunitaria, i tribunali locali degli Stati membri devono rivolgersi alla Corte di Giustizia per chiederne l'interpretazione della norma in questione. Poco fa hai menzionato tra le altre soluzioni il concetto di trust ibrido. Molti non avranno mai sentito questo termine prima d'ora. Quindi Gianluca, potresti spiegarlo meglio ai nostri ospiti? Certamente, però dovremmo cominciare esaminando alcuni concetti fondamentali. Nel nostro lavoro, quando progettiamo una struttura, una nuova struttura, utilizziamo degli strumenti di base che abbiamo precedentemente menzionato, ovvero i diversi trust registrati in diverse giurisdizioni, diverse società, fondazioni di gestione patrimoniale, il trust ibrido e i cosiddetti fondi di private equity. Cercheremo di illustrare i principali meccanismi di funzionamento e i principali vantaggi dei vari strumenti di base e in seguito vi mostreremo quelle che sono le diverse combinazioni di tali strumenti di base. Cominciamo col dire che non esiste una soluzione semplice, esistono solo soluzioni complesse perché l'ambiente legale che ci circonda è molto complesso. È una matrice completa di regole diverse in diverse giurisdizioni, infatti dobbiamo tenere conto delle norme CFC, delle norme antiriciclaggio, le CRS, le norme contabili, le diverse normative fiscali e in molti casi anche del fatto che i clienti e i beneficiari si trovano in diverse giurisdizioni. Tutto pertanto è estremamente complesso e noi dobbiamo fornire una soluzione complessa che sia a prova di audit in qualsiasi momento. Non possiamo lavorare in zone grigie, dobbiamo sempre fornire qualcosa che possa essere soggetta a revisione contabile e che sia in grado di resistere a tale esame. La prima struttura di base è il trust registrato nell'Unione. Fondamentalmente, poiché la maggior parte dei Paesi dell'Unione sono giurisdizioni di diritto continentale, il concetto di doppia proprietà tipico della common law non esiste. Pertanto il trusty è l'unico proprietario del capitale o degli altri asset che gli vengono trasferiti. Per il resto il trust dell'Unione europea è molto simile ai classici trust britannici o statunitensi e quella della proprietà rappresenta l'unica differenza decisiva. I beneficiari, con riferimento ai beni del trust, godono solamente di un diritto di natura contrattuale nei confronti del trust e non possono in alcun modo essere considerati proprietari. Quindi alla base del trust esiste un rapporto di natura contrattuale tra il disponente ed il trusty. Il disponente trasferisce dei beni nel trust e il trust diventa il proprietario di questi beni che possono essere materiali e materiali che gli vengono trasferiti. Naturalmente il trusty è un proprietario per così dire particolare in questo caso perché possiede, detiene i beni, li amministra e li gestisce a beneficio di uno o più terzi, i cosiddetti beneficiari, e lo fa per un periodo di tempo limitato. In termini di durata esistono diverse opzioni. In alcune giurisdizioni è possibile istituire un trust anche a tempo indeterminato, ma molto più spesso la durata è limitata a un certo periodo di tempo. Dal nostro punto di vista generalmente 50 anni, che rappresentano due generazioni circa, sono più che sufficienti per creare una struttura solida, però di solito la durata richiesta è generalmente più breve. Uno degli aspetti fondamentali comunque del trust europeo, specificatamente quello registrato in Ungheria, che è il paese che attualmente offre la tassazione più favorevole di tutta l'Unione, è che il trust stesso è equiparato ad un contribuente ed è pertanto soggetto a contabilità. Tutti i beni del trust sono separati, segregati e registrati nei libri contabili del trust e il trust deve aprire un conto corrente bancario per ogni singolo trust gestito. Che categorie di beni trasferiscono generalmente i clienti? Hai parlato di beni materiali e immateriali, potresti fornire qualche esempio? Allora i nostri clienti di solito trasferiscono beni di svariate categorie, a partire da opere d'arte o automobili, ovviamente denaro contante, titoli societari, crediti, diritti di proprietà intellettuale. Davvero il patrimonio del trust può essere veramente molto complesso in quanto a composizione. Mentre il trust ibrido offre un livello di privacy molto elevato, un trust semplice registrato offshore è un veicolo trasparente dal punto di vista del FATCA, del CRS o del registro di beneficiari effettivi. È importante però sottolineare che in ogni caso, qualora il trust fosse proprietario di una società registrata nell'Unione e dovesse subire un controllo, i titolari effettivi verrebbero senz'altro resi noti. In caso contrario, il registro è comunque accessibile da parte dell'autorità, però solo a seguito di notevoli difficoltà da parte dei privati. I terzi privati infatti possono ottenere informazioni solo qualora dimostrino di essere in possesso di un interesse giuridico rilevante nei confronti del bene del trust. In Ungheria in particolare, solo a seguito di autorizzazione preliminare all'accesso rilasciata dal ministro competente per materia. Dopodiché, il richiedente, che viene classificato come parte interessata, deve presentare una seconda domanda per ottenere le informazioni sul titolare effettivo dall'autorità competente. Si tratta quindi di una procedura a due livelli che è piuttosto macchinosa e richiede parecchio tempo. Pertanto, sebbene non si possa parlare di una privacy assoluta, il livello garantito è comunque molto elevato. Il trust europeo registrato in Ungheria ci offre diverse opportunità che sono molto importanti quando lo si confronta, ad esempio, con una holding, nella misura in cui, sebbene il trust stesso sia soggetto a contabilità, il trust non è obbligato a pubblicare i libri contabili o il bilancio, come avviene invece per le società o per le holding, che soggette alle direttive sulla trasparenza debbono pubblicare il bilancio annuale. Quindi, un trust, sebbene possa agire esattamente come una holding, non è obbligato a farlo e può pertanto offrire un livello di privacy finanziaria molto superiore. E per quanto riguarda la protezione patrimoniale? Beh, la protezione del patrimonio è assoluta nel caso del trust europeo, in quanto, come avevamo già detto, il trust è l'unico proprietario dei beni del trust. Il patrimonio, pertanto, è sempre protetto dai creditori beneficiari, ovvero dai creditori del disponente, nonché dai creditori del trust, del trustee, e data la segregazione dei beni, anche dai creditori di altri beni del trustee. Gli unici ad avere una speranza di potersi rivalere sui beni del trust o i beni che costituiscono un trust potrebbero essere i creditori del disponente, i quali possono rivalersi su questi beni, qualora riescano a dimostrare che il credito preesisteva alla gradazione del trust e che il trasferimento è avvenuto in mala fede. È da notare però che, pur essendoci degli accordi tra Italia e Ungheria per il riconoscimento delle sentenze straniere, la Primus Welt non ha alcun tipo di presenza in Italia, quindi i creditori del disponente dovrebbero in ogni caso avviare un procedimento giudiziario contro il trustee, cioè contro Primus Welt, in Ungheria, in Ungherese. Dovrebbero inoltre provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il trasferimento di beni al trustee è avvenuto, come dicevamo, in mala fede. Perciò, anche se non è possibile garantire, o meglio asserire che si tratti di una garanzia al 100%, possiamo sicuramente affermare che il trust garantisce un ottimo livello di protezione patrimoniale e senza dubbio una protezione patrimoniale assoluta nei confronti di crediti, sorti successivamente alla creazione del trust. Come funziona il trust nel campo degli investimenti? Allora, naturalmente il trust può avere pieno accesso al mercato. L'apertura di un conto bancario impiega a malapena un paio di giorni, in quanto la banca si rapporta al trustee, che è, ricordiamo, a un professionista autorizzato, come si rapporterebbe a qualsiasi altro fornitore di servizi finanziari. Naturalmente il tutto avviene in piena conformità alle normative fiscali e legali. Ricordiamo peraltro che la maggior parte delle convinzioni contro la doppia imposizione sono applicabili al patrimonio del trust, che gode quindi alla protezione dei trattati anche da un punto di vista fiscale. A proposito di trattazione, è importante sottolineare che quando il disponente trasferisce i beni di un trust, il trasferimento per quanto riguarda la normativa fiscale e tributaria ungrese è completamente esente da imposti. Per quanto riguarda invece l'Italia, basandoci su recenti posizioni della Corte di Cassazione, riteniamo che il trasferimento in mancanza di effetti traslativi sia comunque esente da imposte. Ovviamente occorrerà a tal proposito fare una valutazione caso per caso. Infine, in caso di creazione di un cosiddetto private trust, cioè qualora il disponente e i beneficiari siano tutte persone fisiche, anche i redditi e investimenti rimangono esenti da imposte. Allora, nel modulo successivo parleremo di Asset Management Foundation o fondazione di gestione patrimoniale, la quale è regolata in Ungheria da una legge ad hoc. Puoi spiegarci qual è la differenza principale tra il trust e la fondazione? Certamente. Nel caso di un trust, il trustee è il proprietario del patrimonio del trust, che è separato e segregato sia dal patrimonio del trustee che dal patrimonio del disponente del beneficiario. Nel caso di una fondazione invece, la fondazione in quanto persona giuridica è proprietaria del patrimonio trasferito, tuttavia la fondazione medesima non ha proprietari, pur avendo un fondatore. Pertanto, mentre nel caso di un trust, da un punto di vista dell'antiriciclaggio, i titolari effettivi sono il disponente, il trustee e i beneficiari, e questo anche qualora il beneficiario fosse solo potenziale futuro e anche quando avesse diritto soltanto ad un dollaro, nel caso della fondazione, poiché il fondatore trasferisce il patrimonio generalmente in modo irrevocabile, il fondatore, ai sensi delle vigenti norme di antiriciclaggio, non viene classificato come titolare effettivo. Chi è però il titolare effettivo o il beneficiario di un asset management foundation. In realtà, Akos su questo tema ha scritto un articolo che fu pubblicato nel 2020 sulla rivista Oxford Journal Trust and Trustees, dal titolo Protezione della privacy in Ungheria. Peraltro su richiesta, se ne avete bisogno, possiamo inviarvi una copia dell'articolo oppure potete scaricarla dal sito web della Oxford Journal. In pratica l'articolo spiega che nel caso di una fondazione il beneficiario o i beneficiari possono essere classificati come titolari effettivi solo se la fondazione di gestione patrimoniale è stata creata a beneficio esclusivo di un beneficiario, è gestita a beneficio di un beneficiario o se il beneficiario ha diritto a più del 25% del patrimonio della fondazione. Pertanto è evidente come questa struttura ci garantisce parecchio spazio di manovra. Infatti, se nessun beneficiario viene classificato come titolare effettivo, è il consiglio di amministrazione ad essere classificato come tale ai sensi delle norme antireciclaggio. Questo ci consente di garantire un elevatissimo livello di protezione della privacy per i nostri clienti. Passando alla questione dei tributi per quanto riguarda la Asset Management Foundation, ancora una volta analogamente a quanto avviene per il Trust, se il fondatore e tutti i beneficiari sono persone fisiche, i redditi di natura finanziaria della fondazione godono in Ungheria di un'istenzione fiscale totale. In caso contrario, tutti gli altri redditi sono soggetti all'imposta sul reddito delle società, che oggi è fissa al 9%, ma la maggior parte dei redditi sono percepiti sotto forma di dividendi, interessi, plusvalenze, redditi aggrati, opzioni, eccetera, e questi tipi di reddito sono completamente esenti da imposte, il che rappresenta un trattamento molto vantaggioso per il patrimonio del Trust. È possibile, peraltro, ottenere un differimento fiscale a lungo termine fino al momento della distribuzione del capitale dei dividendi ai beneficiari e se il Trust è stato progettato con cura non verrà applicata alcuna tassazione. Si possono, peraltro, progettare strutture di Trust o Asset Management Foundation o, come spiegheremo nelle prossime slide, Trust Ibridi, in cui la distribuzione è completamente esente da imposte anch'essa. In questo caso, però, bisognerebbe, per esempio, modificare la residenza fiscale dei beneficiari. Eccoci arrivati alla struttura più interessante, il Trust Ibrido. Allora, nel caso del Trust Ibrido, combiniamo due delle nostre strutture di base. Il Trust Classico, di cui abbiamo parlato prima, è la Asset Management Foundation. La creazione di un Asset Management Foundation richiede molto tempo e parecchie risorse. Inoltre, molte volte richiede l'impiego di persone fidate da parte del cliente. Di solito noi non suggeriamo ai clienti di crearne una propria, in quanto non è di facile gestione. È possibile utilizzare la fondazione a modi ombrello e poi lavorare sulla segregazione del patrimonio, del conto bancario, dei libri contabili, eccetera. Possiamo creare quindi un Trust Ibrido, la cui struttura è visibile ora sul lato destro dello schermo. Fondatori e cofondatori aderiscono alla fondazione di gestione patrimoniale con un importo simbolico. Al tempo stesso creiamo un Trust, che in questo caso è un Trust Ibrido, e condivide alcuni dei vantaggi del Trust semplice. È progettato con cura ed è soggetto a contabilità. Viene aperto un conto bancario separato, un conto titoli, una partita IVA e sono tenuti libri contabili. Viene cioè creata una struttura pienamente conforme alle normative fiscali e gode anch'esso della piena esenzione fiscale per quanto riguarda i redditi finanziari. Nel caso del Trust Ibrido, poiché i fondatori e cofondatori non sono classificati come titolari effettivi, scompaiono dalla scena dal punto di vista dell'antiriciclaggio. Inoltre, avendo la fondazione a fare da umbrello al Trust, come già spiegato, qualora nessun beneficiario abbia diritto ad una soglia maggiore del 25% del patrimonio della fondazione, nessuno di questi verrà classificato come titolare effettivo. Le uniche persone che possono quindi essere classificate come tali sono i membri del Consiglio di Amministrazione e la fondazione. In questo caso, quindi, siamo in grado di garantire una riservatezza assoluta ai clienti, perché il Codice Civile ungherese prevede riservatezza totale e pertanto l'Asset Management Foundation non può e non deve condividere alcune informazioni sui suoi fondatori e beneficiari. C'è solo un'eccezione. Ovviamente le norme antiriciclaggio non prevalgono sempre, quindi in caso di transazioni sospette l'Unità di Informazione Finanziaria avrà il potere di ottenere informazioni sui titolari effettivi. Anche qui le distribuzioni verso i beneficiari saranno soggette a tassazione, quindi l'importo distribuito deve essere chiarato e sarà tassato secondo la legislazione applicabile, basata sulla residenza del beneficiario che ha ricevuto appunto l'importo da distribuire. Anche su questo tema Akos ha scritto un articolo pubblicato sulla medesima rivista Trust & Trustee che spiega bene come funziona questa particolare struttura e quali sono i principali vantaggi che ne derivano. Fondamentalmente trattandosi di un misto tra un Trust ed un Asset Management Foundation e poiché i beni del Trust appartengono alla fondazione di gestione patrimoniale. La classificazione dei titolari effettivi deve basarsi sulle norme che regolano la fondazione e non su quelle che regolano il Trust. La classificazione è infatti diversa e offre molte più opportunità in termini di protezione alla privacy. Questo perché nel registro dell'impresa o nei registri bancari solo i membri del Consiglio di amministrazione della fondazione appariranno come titolari effettivi. Stiamo comunque parlando di strutture davvero tecniche e complesse e per questo incoraggio chiunque sia interessato a leggere gli articoli che abbiamo menzionato oppure in caso di domande condividetele con noi e saremo ben lieti di rispondere nel più breve tempo possibile. Un'altra struttura di base è rappresentata dal cosiddetto Private Equity Fund. I fondi di investimento alternativi come appunto il Private Equity Fund, i fondi immobiliari, i fondi di venture capital sono regolamentati a livello europeo. Il gestore di tali fondi è un soggetto autorizzato e regolamentato. Si occupa della gestione dei portafogli, della gestione dei rischi, di compliance, di imposte, di contabilità, di auditi interni e inoltre si serve di partner indipendenti, di consulenti legali, di un revisore esterno e un depositario che deve essere necessariamente una banca registrata nel territorio dell'Unione. Allora, poiché il fondo di investimento stesso è uno strumento regolamentato e approvato dall'autorità di controllo sui servizi finanziari, è un'idea molto più facile da vendere, per così dire, alle istituzioni finanziarie al momento dell'apertura di un conto bancario. Anche in questo caso, quando parliamo di privacy, entra in gioco l'Ungheria e la sua legislazione, perché in tutti gli Stati membri e l'Unione Europea il fondo di investimento è un tipo di società o è equiparato a un tipo di società. Per ragioni storiche, sebbene la direttiva sui fondi di investimento alternativi sia pienamente applicabile anche in Ungheria, questi sono regolamentati dalle norme locali e dalle consuetudini locali. In Ungheria, infatti, il fondo di investimento è un tipo di persona giuridica a sé stante, diverso dalla società. E quando è stato introdotto il registro dei titolari effettivi, il legislatore si è reso conto che, poiché il fondo di investimento non è una società, ma un tipo diverso di persona giuridica appunto, semplicemente non rientra nell'ambito di applicazione del registro. In altre parole, in Ungheria il fondo di private equity non deve rendere noti negli investitori perché non sono azionisti, ma per l'appunto soltanto investitori. Naturalmente questi dispongono di titoli trasferibili, ma questi titoli non sono partecipazioni societarie e gli investitori non godono quindi di un diritto di controllo. Il controllo appartiene unicamente all'amministratore del fondo. E l'amministratore del fondo, in quanto soggetto regolamentato, deve agire in base all'atto costitutivo del fondo medesimo e sarà poi il revisore esterno e del depositario ad effettuare un controllo sull'attività dell'amministratore. Ovviamente ci sono anche le autorità preposte al rilascio delle licenze, nel nostro caso della Banca Nazionale Ungheria, le quali rappresentano o la quale rappresenta un ulteriore livello di controllo. La grande differenza quindi deriva dalla diversa classificazione giuridica. Il fondo di investimento, compreso il fondo di private equity, non rientra come dicevamo nell'ambito di applicazione del registro di titoli effettivi e ciò garantisce un'enorme flessibilità e tantissime opportunità per i clienti che desiderano o che hanno bisogno di un livello di privacy più elevato. Possiamo creare un fondo di private equity sia in contanti che con altre forme di contributo. Comunque il capitale minimo richiesto è di circa 700.000 euro sulla base degli attuali tassi di cambio e può essere costituito all'incirca in due tre mesi. Da questo punto di vista si tratta di un processo piuttosto lungo ma una volta ottenuta l'approvazione della Banca Nazionale è abbastanza facile creare il conto bancario e tutto il resto per essere presto operativi. Sul lato sinistro di questa slide abbiamo elencato quelli che riteniamo essere i vantaggi garantiti dal fondo di private equity. Potremmo dire, riteniamo, che questo sia lo strumento che fornisce il più alto livello di protezione della privacy rispetto quantomeno al regime dei titolari effettivi dell'Unione. Oltre a non rientrare nell'ambito di applicazione del registro, poiché gli investitori non godono di diritti di controllo o di proprietà, il fondo non è soggetto neanche al CRS. I nomi degli investitori non sono inoltre pubblicamente disponibili. Un fattore forse da tenere in considerazione della durata minima, che è abbastanza lunga, che è di sei anni. Naturalmente anche questa è una struttura completamente conforme alle norme fiscali e grazie al regime fiscale locale è completamente esente da imposte. Il rendimento del fondo di investimento non è soggetto al reddito delle società o ad altre imposte. La tassazione anche qui si applica solo al momento della distribuzione dei rendimenti agli investitori. Riteniamo che, pur rendendosi necessaria una valutazione caso per caso, anche il trasferimento in entrata sia del tutto esente. Ecco qui un esempio abbastanza sofisticato di come si possono combinare diversi modelli base. Possiamo vedere che in fondo c'è un'azienda target che può essere sostanzialmente registrata in qualsiasi paese. Da questa società possiamo distribuire dividendi, essa può essere proprietà di un fondo di private equity e questo sarebbe sostanzialmente il primo punto di blocco del CRS, del FATCA e del registro di titolare effettivi. Al di sopra potremmo inserire come altro proprietario o come proprietario aggiuntivo un trust ibrido. Potrebbe essere creato ad esempio da una società di gestione patrimoniale privata registrata in Lussemburgo, ovvero da un privato. Per godere di un'esenzione fiscale completa comunque forse sarebbe meglio che il trust sia creato da un privato. Ma se manteniamo tutti i redditi nel fondo di private equity, il fondatore o cofondatore del trust ibrido può essere, come diciamo per esempio questa società registrata in Lussemburgo, per godere di ulteriori vantaggi fiscali. Quindi sostanzialmente i punti di blocco sono due, il fondo di private equity e il trust ibrido. Dal trust ibrido potremmo effettuare una distribuzione alla fondazione di gestione patrimoniale e dalla fondazione di gestione patrimoniale al beneficiario selezionato. In questo caso utilizziamo una società di gestione patrimoniale registrata in Lussemburgo, ma dobbiamo fare molta attenzione perché in questo caso il trust ibrido non godrà di un'esenzione fiscale totale. Tuttavia il dividendo in entrata non è soggetto ad imposte, il che può essere comunque molto vantaggioso. Se la società di gestione patrimoniale privata effettua una distribuzione di dividendi a una persona residente in Lussemburgo non verrà applicata la ritenuta alla fonte appunto in Lussemburgo. Quindi grazie a questa giurisdizione ben selezionata possiamo godere di un'esenzione fiscale totale. Ma questo è solo un esempio di come si possono utilizzare i diversi modelli per mettere insieme una struttura complessa per i nostri clienti. Quali sono i principali punti di differenza tra queste strutture europee e quelle fornite dai più tradizionali paradisi offshore? Ecco credo che questo sia un punto molto importante e è davvero importante capire qual è la differenza tra i due sistemi. In questa slide abbiamo raccolto una tavella comparativa delle diverse soluzioni con gli elementi che caratterizzano appunto le diverse soluzioni. Possiamo utilizzare come strumenti di progettazione società registrate nell'UE o società offshore, trust europei, trust ibridi europei, trust di investimento degli Stati Uniti, fondazioni private, fondazioni di private equity, cioè strumenti diversi con caratteristiche diverse per soluzioni diverse. Vedete che alcuni di essi godono della protezione del diritto comunitario, della protezione contro i terzi, della protezione degli investimenti e delle convenzioni contro la doppia imposizione e questi sono tutti elementi fondamentali. Naturalmente ad esempio se una soluzione ha accesso al trattato sulla doppia imposizione non sarà poi inserita nella VLEC o nella GRAYLIST. Inoltre abbiamo raccolto i dati accessibili al pubblico che è fondamentale, un elemento fondamentale dal punto di vista della protezione della privacy. Vi invitiamo quindi a dare un'occhiata a questa tabella e se lo desiderate inviateci un messaggio via email e vi invieremo i nostri modelli in una brochure in modo che possiate poi esaminarli con calma e eventualmente condividerli con i vostri clienti qualora riteniate che possano tornare utili. In chiusura vorrei spendere qualche parola sulla nostra società, Primus Wealth, che è un gruppo internazionale di gestione patrimoniale con sede principale in Lussemburgo. Abbiamo diversi dipartimenti, società affiliate, società di gestione fondi e fondi di investimento collettivo. Forniamo servizi fiduciari nell'Unione, fondazioni di gestione patrimoniale e trust ibridi. Abbiamo una filiale a Budapest e un ufficio di rappresentanza a Cipro e a Nicosia. Inoltre diverse divisioni in Hong Kong e Singapore. Visitate il nostro sito web, date un'occhiata ai nostri contenuti e in caso di domande contattateci all'indirizzo email info-primus-wealth.com e saremo felici di darvi consulenza, ovviamente gratuita, per discutere con voi le soluzioni che possiamo offrire ai vostri clienti. Vi ringraziamo per aver partecipato a questo seminario e speriamo che vi sia stato utile. Vi aspettiamo al prossimo webinar a settembre. Buona giornata a tutti! Buona giornata! Grazie! 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 Grazie!